E' il futurismo il protagonista nella galleria di Palazzo Bracci Pagani per l'estate 2023. La Fondazione Carifano ha scelto questo tema per organizzarvi la grande mostra annuale. Sarà esposto un corpus di circa 100 opere tra grafiche, stampe, serigrafie e sculture. Uno spaccato inedito di un periodo artistico che ha provocato una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'arte a cui la nostra regione ha dato un grosso contributo. L'iniziativa è stata presentata dal presidente della Fondazione, Giorgio Gragnola, e da uno dei curatori artistici, Carlo Bruscia. La collana di grandi eventi di mostre di qualità a Palazzo Bracci Pagani nella nostra Dianar Gallery prosegue con Fortunato De Pero quest'anno. Fortunato De Pero che è un artista poliedrico, un innovatore del Novecento, la sua arte spazia in ambiti molto diversi dalla pittura, alla scultura, al teatro. Allarga lo spettro di questa esposizione con i futuristi delle Marche. Questa mostra mette in evidenza e fa conoscere e riconoscere anche questi artisti. Quando verrà inaugurata l'iniziativa e fino a quando resterà in allestimento? L'iniziativa viene inaugurata venerdì prossimo alle ore 18 qui presso la Corte del Nespolo e la mostra arriverà aperta fino al primo di ottobre. Invito tutti i fanesi e non solo di portare a visitare questa mostra anche i giovani. Chi sono questi artisti marchigiani che hanno contrassegnato con le loro opere il futurismo all'inizio del Novecento? Il primo e il più importante è Ivo Pannaggi. Pannaggi ha avuto una storia straordinaria europea perché ha studiato al Bauhaus e quindi è un autore che ha sviluppato nel settore del design delle ricerche molto avanzate. Tulli che ha realizzato l'aeroplano giallo, l'aeroplano rosso e ha portato la velocità, quindi l'aereo sulla tela. Dopo questa mostra c'è la possibilità di fare ad Ancona o Macerata una mostra proprio sul futurismo delle marche italiane e quindi rivalutare appieno come è stato rivalutato De Pero. Quindi in questa mostra De Pero, i futuristi delle marche, proprio per rivalutare i marchigiani che hanno lo stesso spessore dei Balla, dei Boccioni e dei De Pero. Tra l'altro, Luciano Roberti ha presentato tre serate che si svolgeranno nella Pinacoteca di San Domenico dedicate a tre episodi particolari. Il 21 luglio, alle ore 21.15, Giordano Bruno Guerri parlerà di D'Annunzio Futurista. Il 28 agosto, alla stessa ora, Lorenzo Bava e Maria Chiara Mazzi interverranno sulla musica futurista e l'intelligenza artificiale. Il 23 settembre, alle ore 18, Maurizio Scudiero terrà una conferenza su De Pero, futurista e centrico.